Un tema extra sulle amministrative, come sono andate? Male, sono andate male perché i ballottaggi, tranne Vicenza, dove Possemai ha fatto un ottimo risultato, sono andati male per il centro-sinistra. Brucio ovviamente la sconfitta ad Ancona perché è il capoluogo di regione, quindi bisogna guardare bene le ragioni. Io penso in generale che bisogna costruire larghe coalizioni. Non a caso a Pesaro da qualche anno abbiamo allargato i Cinque Stelle, abbiamo i Verdi in Giunta, bisogna avere sempre grandi coalizioni sia politiche che civiche, altrimenti le divisioni poi nelle urne rivengono fuori e questo credo che mi sembra un dato abbastanza sodato che riguarda queste amministrative. Non c'è stato un effetto Schlein? La Schlein ha portato tanta gente in due manifestazioni, sicuramente ha contribuito a fare una bella campagna elettorale, e poi le amministrative sono amministrative, incidono molto le questioni locali e lì le divisioni che abbiamo avuto al primo turno non si sono ricomposte al secondo turno, sembra questo il dato principale.